Allora, buongiorno a tutti. Come vi avevo preannunciato, al fine di oggi, non la farò io, ma farà il professor Turbio Corno e cercherà di raccontarvi che cosa sono i sistemi informativi web, che sono essenzialmente la modalità principale con cui vengono sviluppati i sistemi informativi al giorno d'oggi, in modo che avviate tutti quanti un'idea un po' più chiara di qual è la tecnologia che sta dietro gli sistemi informativi, quindi che cosa è fattibile, che uno può progettare e definire requisiti per un sistema informativo fantastico, ma se poi non c'è una tecnologia che è in grado di supportarlo, risulta sostanzialmente un esercizio vanno. Quindi, in questo modo, alla fine di queste lezioni avrete un'idea di che cosa tecnologicamente è fattibile e che cosa si fa in pratica. E poi lo facciamo fare. Buongiorno. Dunque, proviamo a impostare questa panoramica un po' rotta di collo di tutto quello che sapete fare ma non capite come, nel senso che tutti voi immagino siate avi utilizzatori di siti web, però si può dare il caso che molti non si siano mai chiesti o non si siano mai risposti che cosa ci sia dietro dal punto di vista tecnologico. Quindi noi qua partiamo parlando di sistemi informativi web dove l'accento sarà il 90% sulla parola web e il 10% sui sistemi informativi perché in realtà il loro contesto aziendale, la loro metodologia di presentazione, eccetera, le state già vedendo e prescindono anche un po' dagli aspetti tecnologici. quindi quando si parla di sistemi informativi web io sono andato a prendermi ciò che diceva il testo di sistemi informativi che hanno usato nella triennale i vostri cugini e davo questa definizione. Il sistema informativo web è un sistema informativo nel quale la comunicazione tra macchine e utenti avviene sulla rete internet pubblica o su una rete privata basata sugli standard internet. E l'accesso alle informazioni e ai servizi è supportato da programmi per la gestione dell'interfaccia utente noti come browser. Vabbè, qui ho ricopiato le due frasette che componevano la definizione. Questo ci dà già un contesto molto specifico, cosa che oggi a noi, a voi più che a me, sembra scontato che per arrivare a una certa funzionalità, per fare una certa procedura, apro il browser e mi collego a un certo indirizzo. Ma questo in realtà non è per nulla scontato. I sistemi informativi hanno avuto quasi trent'anni di evoluzione prima che, non dico prima che fosse inventato il web, ma prima che cominciasse a essere utilizzato questo modo di creare applicazioni. Normalmente il sistema informativo era un grosso sistema centralizzato con dei terminali o con dei software appositi per potersi collegare e poter svolgere determinate funzionalità. Solo recentemente si è scelto, per ragioni principalmente di flessibilità e di riduzione dei costi, di realizzare sistemi informativi che fossero basati su una tecnologia che nulla c'entrava con i sistemi aziendali, che era quella del web. Il web è nato per pubblicare informazioni aperte, leggibili da chiunque, anzi più gente lo vede più sono contento. Un sistema informativo nasce con una logica completamente opposta, un sistema tendenzialmente molto chiuso, limitato, dà accesso solamente a chi ne ha il diritto e solamente alle operazioni per cui si è autorizzato a farle. Quindi sono due mondi che sono nati con scopi molto diversi. Ciò che è successo è che l'esplosione di internet e dei siti web su internet ha reso disponibili come sottoprodotto una serie di tecnologie a basso costo, o in molti casi anche gratuite, che permettessero la realizzazione di un'interfaccia. Allora, da lì a dire, va bene, allora questa interfaccia che viene usata per creare il sito tal dei tali, perché non la posso usare anche per creare un sistema informativo, l'interfaccia del mio sistema informativo, perché se così facessi avrei dei grossi risparmi di scala, perché dal punto di vista tecnologico non vado a implementare le cose da zero, ma salgo su una scala che è già fatta di 3-4 gradini già pronti e poi sviluppo solamente la parte, diciamo così finale, dei miei livelli di complessità e nello stesso tempo posso anche azzerare quelli che sono i costi di gestione e manutenzione. Immaginate, io quando parlo di sistemi informativi, per fare un caso specifico penso sempre a una banca che abbia tanti sportelli, tante filiali. Allora, voi immaginate di avere un programmino che è installato sul PC di ogni sportello di ogni filiale di una banca e vi accorgete che quel programmino è da aggiornare perché cambia l'IVA, perché cambia una normativa e dovete aggiornare questo programma. Il costo di aggiornare un singolo software su migliaia o decine di migliaia di macchine è una cosa, diciamo così, che normalmente supera addirittura il costo di sviluppo del programma stesso. E fino a prima del web questo era un problema. Avere macchine che fossero tutte uguali, tutte clonate, tutte identiche, in modo che anche se l'aggiornamento software potesse essere fatto da remoto a tappeto in batteria. Con l'aumento del web, questo è stata la manna dal cielo perché è sufficiente che su ogni computer tu abbia installato un browser, con i plugin giusti, con la configurazione giusta, quello che volete. Dopodiché devi aggiornare l'applicazione e sul computer non devi fare nulla. Quando Facebook aggiorna qualche cosa, non viene a toccare il vostro computer. L'aggiorna sul suo server e la prima volta che ti colleghi vedi che qualcosa è cambiato. Costo di aggiornamento uguale costo di sviluppo. hanno sviluppato nuove funzionalità, ma l'utente nel momento stesso in cui si ricollega al sistema informativo ha già automaticamente la versione aggiornata. Quindi, disponibilità di software, di cui parleremo oggi, esistente e gratuito. Riduzione, per non dire azzeramento, dei costi di aggiornamento. e poi c'è un terzo fattore non trascurabile, disponibilità di persone competenti sulle tecnologie. Oggi, se andate a cercare un programmatore PHP rispetto a un programmatore COBOL, ne trovate 100 a 1 come disponibilità sul mercato. Poi di quei 100, magari 95 sono autodidatti che lavorano in modo raffazzonato, ma rimane comunque sempre 5 a 1. Quindi, anche i linguaggi di programmazione e tecniche di programmazione si sono evoluti negli anni e è più facile trovare tecnici capaci ed esperti nelle tecniche di programmazione più recenti, che a questo punto sono anche facilmente rivendibili in campi diversi. Io lavoro nell'ambito internet, lavoro nell'ambito del commercio elettronico oppure lavoro nell'ambito dei sistemi informativi di un'azienda. Allora qui noi stiamo usando tutto ciò che ci dà internet tranne una cosa, forse, è una scelta, tranne il fatto che il sito che facciamo sia pubblico. Faremo dei siti, cioè voi il software che gira davanti agli occhi dell'impiegata di banca quando andate a fare un bonifico, non fatelo là perché vi costa troppo, ma non è accessibile a voi. Voi non potreste da casa accedere a quella pagina lì, a quella funzione che vede lei. È una funzione che è sviluppata solamente sulla rete interna protetta dell'azienda. ma a parte questo dettaglio che non è accessibile dall'esterno, funziona con le stesse tecniche con cui voi vi collegate da casa. All'on banking della stessa banca che è un'interfaccia completamente diversa, molto più limitata per voi, ma che usa le stesse tecnologie che sono quelle di internet. Una volta non era così. Dovevi trovare programmi specifici, metodo di comunicazione specifica e così via perché la rete non era ancora sufficientemente sviluppata. Allora questo è il contesto in cui partiamo. Rubare lo sviluppo che c'è stato nel campo inter per facilitare lo sviluppo di sistemi informativi. Qui vi risparmio che c'è così l'analisi di queste cose. Mi ricordavo solo che ogni volta che creo un sistema informativo in realtà sto gestendo sempre una relazione. Una relazione tra più entità, tra più attori che possono essere appunto aziende, possono essere utenti privati, possono essere servizi pubblici. E questo, la combinazione di queste interazioni, di queste relazioni, ha dato il nome a tutta una serie di sigle che si vedono anche in giro. Giusto qui è solamente per dare un po' di nomencatura. Quando parlo di business to business, sono sistemi informativi che gestiscono su web la relazione tra aziende diverse. Allora nel momento stesso in cui parlo di aziende diverse, sto dicendo che queste due aziende devono avere perlomeno un metodo di comunicazione comune. E allora se non ho, a questo anche serve internet, servono le tecnologie web perché di fatto è uno strumento di comunicazione che è comune a tutti e quindi rende possibili queste dinamiche. Il B2C è il business to consumer, quindi di fatto gli utenti finali che vanno ad acquistare beni o servizi online, commercio elettronico e cose di questo genere. consumer to consumer, pensate un eBay o una cosa di questo genere, cioè relazioni, commerciali o anche non commerciali, tra utenti finali e così via. Quindi ci sono tutte queste dinamiche che sono rette dai sistemi informativi aziendali. Noi essendoci nella nostra vita la maggior parte del tempo siamo utenti, vediamo solamente la punta dell'iceberg di ciò che c'è. In realtà la maggior parte delle linee di codice che sono scritte, sono scritte nei sistemi B2B, nei sistemi attraverso cui la vostra banca parla con la società di carta di crezzo, parla con la società dei mutui, oppure l'azienda parla con il proprio fornitorio, si integra con le proprie sedi e cose di questo genere. Quindi sono cose che non sono molto evidenti nella vita di tutti i giorni, ma sono poi la parte preponderante più pesante degli sviluppi e in realtà dove anche ci sono i maggiori budget di sviluppo e di gestione dei sistemi informativi. Il resto se vogliamo un impatto sulla società, ma meno dal punto di vista economico. Le varie tipologie di applicazioni che posso immaginare di costruire hanno livelli di complessità diversi. E qui, sempre tratta da quel libro, ho rindisegnato questa figura che ci fa vedere che quando parlo di un sito, che qui è stato chiamato standard, un sito internet normale, ho un livello di complessità molto basso. La relazione business to consumer è molto bassa, ha un livello di complessità molto basso, ma tutto sommato. Perché tutto sommato al consumer deve arrivare un'interfaccia con delle informazioni, adesso che sono nate le reti sociali le informazioni può anche fornirle lui, ma tutto sommato ha una dinamica limitata, poche funzionalità, che poi se va bene magari si concludono con un acquisto di un bene o di un servizio o altra forma di remunerazione. Man mano che mi sposto nel business to business aumenta anche il livello di complessità. Ma perché? Perché devo gestire dei processi più complessi, più articolati, che hanno bisogno di certificazioni, che hanno bisogno di essere collegati a transazioni economiche, che hanno bisogno di essere associati a un valore legale. Cioè nel momento in cui io integro due aziende e gli dico ok, io gli ordini non te li passo più via faccia, ma te li passo via forma elettronica non è la stessa cosa che ti mando una mail, o ti faccio il sito in cui posso caricare una foto o la forma canalizzata dell'ordine. perché quell'informazione non è solamente un documento che viaggia, ma è un'azione dispositiva. Cioè cambia un effetto nel sistema gestionale dell'azienda ricevente. e quindi deve avere lo stesso valore legale che ha un ordine firmato, no? Per fare un esempio molto semplice. E quindi il fatto che io non me li posso, né uno né l'altro non posso poi, diciamo così, a posteriori barare sul fatto che l'ordine si è stato spedito, no? Con la data, col prezzo, con l'importo, perché poi dopo, no? Sì ti mando un ordine finto poi tarò quel prezzo oppure faccio finta di non averlo ricevuto o cose del genere. E quindi ci sono tutte complessità collaterali, complessità collaterali che vanno, diciamo, a rendere più difficile l'architettura del sistema, la robustezza del sistema. Oltre al fatto che man mano che salgo, in realtà sto gestendo non solo operazioni più complesse, ma operazioni anche economicamente più importanti di solito, altre proprietà del sistema, come le proprietà ad esempio legate alla qualità o all'affidabilità, diventano enormemente più importanti. Cioè, se io posso accettare che per un momento Gmail non funziona, riprovate più tardi, vabbè, sto pagando niente, va bene, se non sta fermo per due ore, sta fermo per tre minuti, pazienza. Quante volte avete visto sul portale della didattica procedura sito di un aggiornamento riprova più tardi? Sì, sul momento girano le scatole, ma poi te ne fanno ragione, no? Non è una funzionalità critica. Immaginate la stessa cosa quando tu vai in banco alle poste e ti dicono che il sistema è fermo, non possiamo tornare a casa e andare via. Questo non deve succedere, non dovrebbe succedere. Poi da lì si può anche giudicare l'importanza che danno al servizio, sulla frequenza con cui questo succede. Cioè, il problema è di avere una fidabilità molto più alta, vicina al 100%, si sta formando un servizio business to business. Questo non è impossibile, ma costa tanto in termini di complessità di un sistema che deve continuare a funzionare anche in presenza di anomalie, guasti, eccetera, quindi il sistema di per sé deve essere più complesso, più replicato, e in termini di complessità delle procedure, nel senso che magari alcune procedure che continuano a funzionare, faccio un esempio, se la connettività viene a mancare, ma alcune cose riesce a farle, magari altre no, ma alcune sì. E quindi devi replicare delle procedure, inventarne delle varianti più complesse, eccetera. Quindi, tutti questi requisiti, sia di funzione che di, diciamo così, di importanza delle transazioni, che di, diciamo così, necessità dovute da fidabilità, rendono i sistemi molto più complessi. Ma comunque si continuano a basare sempre sugli stessi principi. Ok? Semplicemente, anziché essere grosso 10, è grosso 10.000, ma il principio di funzionamento è lo stesso e è tutto sommato facile da capire. Spero. Allora, quando parliamo di architetture web, in realtà stiamo sempre interagendo con delle serie di livelli, delle pile di livelli architetturali e funzionali che qui sono grossomodo riassunte. La cosa bella è che questo disegno, in realtà questo non vale tanto per le, per l'applicazione Enterprise dove i livelli più bassi in realtà sono più complicati, ma partiamo da qui, da qualche parte dobbiamo partire. La cosa bella di queste figure è che io stia parlando di Facebook, che stia parlando di Gmail, che stia parlando del sito di ricette che ho fatto per mia zia, o che stia parlando di un page personale in cui ci metto le foto o le cose, questo è sempre uguale. Il modo di pensare l'applicazione è sempre lo stesso, il modo di organizzarla è sempre lo stesso. E aggiungo quasi i software che vivono a ciascuno di questi livelli sono gli stessi. c'è il browser, è sempre il browser. Io posso avere Safari, posso avere Internet Explorer, posso avere Chrome, posso avere Firefox, posso avere Opera, quello che voglio, ma è indipendente poi dal sito a cui mi collego quando va tutto bene. è un elemento riutilizzabile in tutte le applicazioni. E tra l'altro ce l'ho e non mi costa niente. Internet, vabbè, mi costa 20 euro al mese, ma poi una volta che ce l'ho può far girare qualunque browser e può far girare qualunque sito web. quindi la forza di questo è che ogni livello è disaccoppiato da quello sopra e da quello sotto, questo è quello che sto cercando di evidenziare. Un sito web può essere usato da chiunque, arrivi via Internet anche da posti diversi e da qualunque browser usi per collegarsi. In realtà un server web che, adesso entreremo nel dettaglio, è quello che gestisce le connessioni, è abbastanza indipendente dal tipo di applicazione che sta facendo girare. Vi farò vedere un grafico che fa vedere che il 60% dei siti web al mondo usano lo stesso software come server web. Lo stesso identico, non modificato, quello è un componente standard, un componente standard che se voi lo doveste sviluppare vi costa 50 anni di lavoro. Ma c'è, è open source e tutti lo usano, funziona bene. Per far girare siti anche completamente diversi. I siti diversi sono diversi a livello di applicazione, cioè che cosa faccio? E di database, cioè quali dati gestisco? Ma anche lì l'applicazione e il database sono fatti al 90% di software standard, cioè nel caso del database, il DBMS. Voi, se non sbaglio, chi è di voi ha fatto base di dati e ha usato nell'esercitazione, forse usate Oracle per qualche periodo. Che è un mostro di software in cui poi dentro c'è l'1%, ma meno dell'1%, 0,01% di programmazione, che è quello che ci fate voi, le tabelle che create e i dati che mettete. Ma in un sistema anche complessissimo. Adesso Oracle è una cosa, database gratuiti open source ce ne sono 3 o 4 che vanno per la maggiore. Quindi è un sistema complesso, disponibile, standard e magari anche gratuito. Idem per l'applicazione, l'applicazione scrivete voi, ma in realtà quello che si scopre, anche qui il codice che uno scrive, il programma che uno scrive, vive in un contesto di un application server, di cui cercherò di accennarvi di cosa si tratta, che è già pronto, è già bello, è fatto e fa già l'80% del lavoro che ti serve. E a te resta il 10% specifico di quel sito lì. Quindi si lavora in un contesto in cui si fa una scelta unica di architettura, la si impara una volta e poi sito per sito devo andare a modificare che database devo fare, che applicazione devo scrivere, c'è tutto a portare la parte grafica, di layout, di immagini, eccetera, ma questo è un pochino, lasciamo parte. E tutto il resto è standard. Prima di questa architettura, in realtà ogni applicazione, ogni servizio era una storia a sé, era indipendente dalle altre. Quindi questo è stato, se vogliamo, la rivoluzione. L'architettura è a più livelli, io qui non vi ho parlato del livello dell'autenticazione, perché c'è, non c'è, può essere diverso, ma in realtà è minore, è quasi sempre annegato nel livello di applicazione. E quindi cosa succede? Succede che l'architettura normale di un sistema informativo basato su web è fatta di almeno quattro pezzi, grosso modo. Uno lato client e tre lato server. Poi questi li chiamiamo server di database, dove ci stanno i dati, il server web dove gestisce la connessione e il server applicativo. Questa figura è chiamata transaction server, ma vuol dire la stessa cosa. dove gira l'applicazione. Qui gestisco la connessione, qui gira l'applicazione e in fondo ci sono i dati. Questi tre livelli. Il client attraverso la rete internet si collega col primo livello, con il livello web, di accesso web, il quale a sua volta passerà la richiesta in funzione di che cosa fa l'utente, di elementi di interfaccia utente su cui l'utente ha cliccato, passerà la richiesta al server applicativo, il quale per poter andare avanti userà i dati nel database. Adesso oggi faremo la dissezione di questo processo per capire cosa succede nella pratica. Alla fine all'utente arriva una bella paginetta nuova in cui c'è il risultato di ciò che ha chiesto, ovunque si trovi l'utente nel mondo. Questa è l'architettura generale. Qui è usato e abusato il termine server in quella figura. Ecco, come server intendiamoci. Server è un concetto logico, ma può anche essere un concetto fisico. Quando voi parlate di server, quindi bisogna sempre fare attenzione a cosa si dice e che cosa intende l'interlocutore. Uno dice ho comprato un server. Tipicamente se dice ho comprato un server vuol dire che hai comprato una macchina fisica da installare in un centro di elaborazione dei dati che ha una certa potenza di calcolo, ecc. Uno più CPU, dischi, ecc. Ho comprato un computer che userò come server. Ma server significa anche il software che faccio girare su queste macchine fisiche. Quindi quando parlo di web server, in realtà sto dicendo sia il software che serve per gestire un sito web, sia l'hardware che ospita questo software. E il mapping tra server logico, quindi server di web, server di database, server applicativo, il mapping tra server logico e server fisico non è uno a uno, ma può essere diverso. In sistemi informativi di basso carico, di bassa complessità, io potrei avere solo uno o due server fisici, uno che è al limite che faccia girare tutto lo stack logico. Quindi un'unica macchina, per parlare in termini più concreti, un'unica macchina, un unico computer su cui faccio girare sia il database che l'application che il web. Perché mi basta. Quando faccio sviluppo, quasi sempre così, sviluppo sul mio pc e sopra c'è tutto, mi installo tutto ciò che serve. Ma invece su siti di alto volume, il livello server web, che è un livello logico funzionale, magari è sparso su dieci macchine diverse, di front end cosiddette. Perché le richieste sono così tante che se fossero gestite da una macchina sola, rallenterebbero tutta la navigazione degli utenti. Quindi le richieste via via che arrivano vengono svistate su macchine diverse. La stessa cosa succede a livello database. Database complessi in cui ho molte transazioni, molte richieste, per non essere rallentati, vengono a volte replicati e gestiti da DBMS diversi che girano su macchine diverse. Per gestire il problema della scalabilità. Quindi possiamo avere entrambi i casi, più server logici sul stesso server fisico o più server fisici che gestiscono, si ripartiscono nel carico di un unico livello logico. Poi oggi le cose si complicano perché esiste molto, nei data center normalmente usano la tecnica delle macchine virtuali, della virtualizzazione. Quindi tra server logico e server fisico c'è di mezzo la macchina virtuale. Quindi in queste relazioni ci sono tutte le combinazioni possibili, immaginabili, molte delle quali in alcuni casi anche invisibili al programmatore. Perché tante volte tu compri una certa potenza di calcolo, poi non hai idea di quanti o quali server fisici la stanno facendo girare perché tu hai una macchina virtuale su cui gira l'applicazione e basta. Ma diciamo sono ragionamenti questi più di tipo sistemistico che non ci interessano. Allora cominciamo magari a sfogliare questa cipolla vedendo un livello dopo l'altro. Parlerò da questo momento in avanti dei livelli logici. Poi che siano tutti su poco ardor o su tanto ardor è questione di lira, di costi e questione di carico di lavoro che sono in grado di svolgere. Ma dal punto di vista funzionale e architetturale mi interessa prima di tutto il livello logico. Poi nel momento in cui dovessi fare un dimensionamento di sistema informativo e stimare un budget dei costi allora ovviamente mi interessa anche il livello fisico. Ma viene dopo. Ok, cosa è un server web? Il server web è il software che gestisce l'accesso a un sito web, detto in poche parole, non in parole povere. Più concretamente è un software che è in grado di gestire il cosiddetto protocollo HTTP. Il protocollo HTTP, questa cosa qua che tutti dicono ma nessuno conosce, è uno standard di comunicazione, è lo standard di comunicazione tra il browser e il server web. tra il tuo browser e il sito a cui ti colleghi. È un protocollo molto semplice che è basato su uno scambio di messaggi testuali, molto semplici. messaggi che vengono, ci sono di due tipi, messaggio di richiesta e messaggio di risposta. Quindi ogni volta che voi fate qualcosa nel vostro browser, che cliccate su un link, su un'immagine, su una pagina, il vostro browser manda un messaggio di richiesta, che è un HTTP request, un messaggio codificato come richiesta nel protocollo HTTP, al server web, dall'altra parte del mondo, che non vi conosce, non sa chi siate. Fino un attimo prima era felice questo server perché voi non esistevate. Poi vede arrivare un pacchetto di richiesta. Chi è questo? Non lo so. Però mi manda una richiesta. E allora io che sono un server web, ho come mestiere quello di accettare le richieste HTTP e di rispondere a queste richieste. Quindi cosa fa un server web? Riceve le richieste dai client, dai browser sparsi per il mondo che lui non conosce, legge. E io gli ho chiesto una cosa. Come fa il server web a sapere? Tipicamente se l'avrà salvato da qualche parte l'informazione. Ti chiedo l'immagine, mi collego alla pagina, all'home page del Politecnico, cioè quelle bellissime immagini con gli studenti tutti felici e sorridenti. Non so se l'avete notato. L'immagine dov'è? E' sul computer, sull'hard disk del computer del server web del Politecnico. Allora quando il vostro browser dice qui mettici questa immagine, il server web andrà a prendere questa immagine e te la restituisce. oppure in alcuni casi, lo vedremo, la risposta che ti dà il sito non è già predefinita, presalvata con un'immagine già pronta, ma viene costruita, personalizzata per te in quel momento. Quando tu ti colleghi a Gmail per leggere la posta, ecco l'elenco dei messaggi quando ti colleghi non è salvato da qualche parte, non è un file che contiene l'elenco dei messaggi, perché in quel momento in cui ti colleghi, il server deve determinare quali sono i messaggi per quella persona di specifica e quindi la calcola sul momento quella risposta. Quindi ci sarà non semplicemente leggere un file e consegnartelo, ma far girare un algoritmo e visualizzarti l'output di questo algoritmo. E quindi di fatto attivare un'applicazione. In questo caso un server web, dicevo, è un software standard, quindi non può sapere che cosa vuol dire l'elenco dei messaggi. Lui è capace di fare operazioni standard, darti un file se questo è già pronto. Ogni volta in cui l'operazione da fare non è standard, ma è personalizzata, lui non potrà fare altro che ricevere queste richieste e passarla a qualcun altro che in realtà contiene degli algoritmi personalizzati, che è il livello di applicazione. Quindi per le pagine di tipo dinamico, ossia le pagine che ogni volta che le visito possono avere contenuto diverso, il server web non sa che cosa farci, ma conosce qualcuno che sa che cosa farci, ossia l'applicazione server, gli passa la richiesta. Alla fine cosa fa il server web? Alla fine di tutto questo, quindi o ha trovato la risposta che gli ha mandato una richiesta, o lui ha trovato la risposta direttamente come file sul suo file system, o ha delegato questa richiesta ad un application server che poi gli risponde, in entrambi i casi a un certo punto ha la risposta. Cosa è questa risposta? Un file. O un file che esisteva o un file che è stato creato sul momento. Lo prende e lo rimanda al mittente. La risposta HTTP è ciò che torna indietro dal server e arriva al browser. Quindi con il browser c'è l'iconcina lì che gira perché sta ricevendo poco per volta la risposta che arriva dal server. Ogni volta che c'è una richiesta si apre una nuova connessione HTTP, nuova richiesta, nuova risposta. Riclicco, nuova richiesta, nuova risposta. In realtà è molto più complesso perché una singola pagina, quando faccio un click mi dà una pagina nuova, questa pagina è fatta sì di un testo ma anche di molte immagini e come magari riusciamo a vedere, ogni immagine è una richiesta diversa per il modo in cui sono codificate le pagine. Quindi, visto graficamente, riusando le stesse icone di prima, direi l'utente parte, le azioni di un utente viene convertite in un indirizzo web, la URL di un sito o di una pagina, l'indirizzo di una pagina. Questo indirizzo viene impacchettato all'interno di un messaggio di richiesta. Il messaggio di richiesta fa il giro del mondo e arriva a un certo punto a un server web, ben preciso. Questo qui analizza la richiesta nel caso in cui, questo è il caso più semplice, poi la complichiamo questa figura, nel caso più semplice la richiesta è relativa, supponiamo, a un'immagine, quindi un file già esistente. Allora, cosa fa il server web? Semplicemente deve determinare in quale cartella, in quale directory è salvato col file, prenderlo e rispedirlo all'indietro, incapsulandoli, imbustandoli in un formato opportuno che è il formato previsto dal protocollo HTTP. O se non è un'immagine, molto spesso è una pagina di informazione, una pagina scritta nel formato HTML. Quindi il web nel 1991, se non sbaglio, l'hanno inventato così. L'hanno inventato come strumento per poter distribuire dei file di testo. in modo aperto. Perché all'epoca non esisteva nessuno standard. Non esistevano, le reti di computer cominciavano ad esistere, ma erano tutte diverse l'una dall'altra. La possibilità di avere un server pubblico accessibile ad altri non esisteva in nessun modo. C'erano i server FTP, ma dovevi avere una password per accedere. Un documento. Oggi, se io devo mandarti un documento, ti manderò un file Word o un PDF o qualcosa di questo genere. Ma perché tutt'esomato ci sono dei formati che sono ormai accettati da tutti. Universalmente accettati. Che poi tu abbia un Mac o una macchina Windows o una macchina Linux oppure altro, oppure un telefonino o un PDF e lo leggi. All'epoca non era assolutamente così. Quindi il problema era anche... Sapete che il web è stato inventato al CERN di Ginevra. Al CERN dove fanno gli esperimenti sulla fisica nucleare. C'è che centrano i fisici nucleari con l'informatica. Il problema che avevano era molto semplice. I fisici fanno esperimenti. Gli esperimenti generano dati. Per poter andare avanti la fisica deve fare in modo che questi dati arrivino agli altri ricercatori nel modo più veloce possibile. All'epoca il modo più veloce possibile richiedeva sei mesi quando va bene. Sei mesi un anno. Cioè pubblicare un articolo su una rivista e aspettare che la rivista arrivasse dagli altri e la leggessero. Però non andavi avanti tanto. Allora, questi ricercatori si sono posti il problema di come fare a condividere più rapidamente possibile l'informazione che avevano. Allora, hanno dovuto risolvere due problemi di base. Uno, in che forma, in che linguaggio scrivo i miei articoli. Perché poi molte volte, a quell'epoca, gli articoli in alcuni casi venivano ancora scritti con la macchina da scrivere e poi li mandavi all'editore che li ribatteva sul sistema tipografico. Era un mondo molto diverso da quello di oggi. E allora si sono inventati un modo di rappresentare il testo, testo con formattazione, che fosse standard per la prima volta. E poi, secondo problema, un metodo perché chiunque potesse leggerlo, cioè potesse ottenere una copia di questa informazione. E questo metodo è stato, diciamo, poi concretizzato tutto fuori nel protocollo HTTP. Un modo per chiedere a un determinato server di un determinato centro di ricerca quell'articolo. Quell'articolo, a sua volta, è scritto in un linguaggio che è il famoso linguaggio HTML. Quanti di voi hanno già visto cos'è una pagina HTML? Allora, tutte le volte che voi navigate un sito, prendiamolo uno a caso, prendiamo quello del poli, sarà brutto, ma... Voi quello che vedete è questo. No? Vabbè. Vedi, come sono allegri. Voi no. Come è fatto ad arrivare sul mio computer sta roba qua? Quando io ho inserito l'indirizzo del poli, dal mio computer, rifacciamolo, www.polito.it, dal mio computer, non si è vista, l'avete vista? È partita una richiesta HTTP. No? Sono wifi, quindi deve essere rimbalzata da qualche parte di mezzo a voi. Ha un server identificato dall'indirizzo, dalla urla che ho scritto qua sopra. Questa richiesta è arrivata al server del poli, il quale ha restituito rapidamente al mio computer questo. La risposta alla mia richiesta HTTP, dammi la pagina www.polito.it, è stata questa. È stata un file di testo, con tante schifezze in mezzo, e che adesso andremo a cercare di capire che cosa c'è qua dentro, ma tutto sommato è un file di testo scritto in un linguaggio che è il bisnipote della prima versione dell'HTML che è stata inventata al CERN 25 anni fa. Un documento, vedete, HTML, che contiene tante cose, ma a un certo punto contiene anche cerca argomenti o persone, adesso in realtà abbiamo preso una pagina che di fatto non ha testo, quindi non ha testo scritto, quindi è difficile da leggere. Però se prendiamo ad esempio, prendiamo la pagina di Torchiano, 02 CX, così vediamo se scrive bene l'HTML. Quando voi vi collegate qui per scaricare le lezioni, vedete questo. Allora, io ho scritto un indirizzo, il mio browser se lo ricordava, quindi mi ha facilitato la scrittura e non mi sono dovuto ricordare tutta quella urla. Il browser ha mandato la richiesta al server, che è diverso da quello di prima, softend.polito.it, non è www.polito.it. A questo server chiedo, senti caro server, mi dai questa pagina? Quindi ogni indirizzo è sempre fatto da due parti, il server a cui lo chiedo e il contenuto che sto chiedendo a quel server. Il server mi risponde così, con un file HTML che contiene, le vedete, le informazioni di cui di seguito sono elencate le luci di presentazione, eccetera, eccetera. Dov'è? Qui di seguito sono elencate le luci di presentazione e il screencast. Cioè il contenuto della pagina c'è nel file HTML che contiene cosa? Il testo più le istruzioni di formattazione. Questa frase, attenzione, i due corsi paralleli non, eccetera, eccetera, c'è nella pagina, qui la vediamo come lista puntata. C'è un puntino, un pallino qui, che a sua volta ha dei sottopallini sotto. Il linguaggio HTML definisce dei cosiddetti tag, che sono questi comandini qui tra segni di maggiore e minore, che delimitano porzioni di testo e sono dei comandi di formattazione. Quindi immaginate quando voi in Word cliccate sul bottoncino elenco puntato, anziché fare così, sulla frase che volete trasformare come elenco puntato ci mettete un tag davanti e uno dietro per dire qui comincia e qui finisce l'elenco puntato. E questi tag hanno dei nomi, ul sta per proprio elenco puntato, ul sta per unordered list, lista non ordinata. Una ul inizia qui e finisce qui, con barra ul. Quindi questi tag delimitano porzioni di testo e danno un significato diverso, impostano una formattazione diversa a queste varie porzioni di testo. Questa lista non ordinata è composta da 4 li, list item, voci della lista. Questa a sua volta è all'interno di un list item di una ul. L'attenzione che inizierà prima, perché questa qua è un li, inizia dopo avvisi. Qua inizia. Quindi è una lista puntata di primo livello che occupa tutta questa zona, che ha diversi item. Ciascuni di questi item al loro interno contengono dei sotto item. Ciascuni di questi item al loro interno contengono magari una tabella. Andiamo a vedere com'è fatta. la suddivisione qua. La tabella è fatta con un tag che si chiama table, quindi inizia qui e finisce qui. La tabella è fatta di righe tr, tr sta per table row, riga di tabella, quindi questa è la prima riga, inizia qui e finisce qui. La seconda riga inizia qui e finisce un po' più in là, qua e così via. L'ennesima riga è fatta, ogni riga poi è fatta di celle. Le celle sono identificate da td. Td inizia la prima cella, la seconda, la terza, la quarta e Marco è piccolo perché non più dei tag. Qui dovrebbe essere td poi barra tdd per chiudo. E così via. Cioè per ogni elemento di formattazione, perdono ho preso la finestra sbagliata, per ogni elemento di formattazione, il grassetto, il corsivo, il cambio di colore, faccio la tabella, faccio la lista puntata eccetera eccetera, sarà descritto dal punto di vista di tag. che sono salvati, scritti dentro il file che sta nel server. Il file di testo viene trasferito nel browser e il browser interpreta, capisce questi comandi, li interpreta e li trasforma in elementi visivi. Li trasforma in convenzioni tipografiche, te lo mostra in un modo diverso. Così come ad esempio questo avvisi qua è un titoletto. Allora probabilmente un titolo è scritto con un tag diverso, H2, H sta per heading, intestazione. Qui c'è l'intestazione H1, H2, H3, H4 che sono l'intestazione di primo livello, di secondo livello, di terzo livello e così via. Come tipo capitolo, sezione, paragrafo, cose di questo genere. Quindi c'è una manciata di un centinaio di tag diversi che costituiscono il linguaggio HTML, come ovviamente le loro regole di utilizzo, costituiscono il linguaggio HTML. Che permette di definire del testo, formattarlo, cambiare colore, creare il link, esempi di caso d'uso, un link. Come lo faccio un link? Attraverso un tag che si chiama A. A sta per ancora. Ancora un link. E questo link è composto da due parti. Una parte cliccabile, quindi esempi di caso d'uso e il testo compreso tra il tag A e barra A. Questo esempio di caso d'uso è il testo che viene evidenziato. E quando ci clicco sopra, come fa il browser a sapere dove voglio andare? Beh, c'è scritto qua. Questo link mi porta a questo indirizzo. href sta per hypertext reference, riferimento ipertestuale, cioè indirizzo di destinazione. Quindi mi manda a questa pagina qui, sullo stesso server. Cosa c'è d'altro? Ci sono immagini, no? Questa immaginina qua di YouTube, come si fa a mettere dentro? Ecco, qui comincia... Finora era tutto nel file HTML. L'iconcina YouTube che cos'è? E' innanzitutto un link che contiene un'icona e un po' di testo. Come si scrive in HTML? Allora, un link, un A, che tra l'altro è dentro una lista puntata, infatti vedete che c'è il pallino a sinistra. Il link comprende un po' di testo, vedete che poi il link finisce qua, e un'immagine, image. All'immagine è descritta dal source, dal sorgente, dalla fonte da cui questa immagine proviene. Cioè, quando inserisco un'immagine, all'interno del file HTML non ci posso mettere l'immagine. Il file HTML è un file di testo, non posso fare l'incolla lì, non è un file di testo. Ma indica un riferimento a un file esterno che contiene questa pagina. Questa immagine, questo file, un'immagine in formato JPEG, vedete che nella riga sotto c'è un'immagine in formato, scusate, PNG, e nella riga sotto c'è un'immagine invece in formato JPEG. Sono di vari formati di immagini che i browser supportano. Quindi ogni volta che voi... Allora, come ha fatto il browser a farmele vedere queste immagini? Io prima ho semplificato, ho detto, ho scritto quell'indirizzo, il server mi ha dato questa pagina. Mi ha dato l'HTML. Così è. Però se mi avesse dato l'HTML e basta, quelle immagini non sarebbero comparse. Perché nell'HTML abbiamo visto che non ci sono le immagini. Allora, cosa ha fatto il browser? Il browser ha visto che dentro l'HTML c'era un riferimento ad un'immagine. Allora, di sua iniziativa, il browser ha fatto un'altra richiesta al server di Torchiano, chiedendo, per favore mi dai questa immagine youtube.png? Il server di Torchiano gli ha restituito l'immagine, che noi qua non possiamo vedere quanto sarebbe un file binario, non è più un file di testo, un file png, ma così come me l'avesse copiato. E il browser ha preso questa immagine e l'ha disegnata lì nello schermo. Poi subito dopo c'è l'altra immagine, quella del podcast. Allora il browser ha fatto un'altra richiesta al server di Torchiano, chiedendogli, mi dai anche questo file qui? Il server di Torchiano mi l'ha dato, mi è arrivato al mio computer e il browser l'ha disegnato nel punto giusto. Potete immaginare che per queste altre immagini succede esattamente il stesso processo. Con la differenza che se questa immagine è identica a questa, probabilmente ha lo stesso indirizzo, il browser non è così scemo, se deve rifare, se vede che sta per rifare una richiesta ad un indirizzo identico a quello precedente, non la rifà ma riusa il file che aveva ricevuto prima. Come fare a usarlo? E beh, il browser ha la cosiddetta cache, la cache del browser famosa. Eh, devi ruotare la cache. È un'area di disco sul mio disco locale in cui il browser si salva il file che via via ha scaricato. e se si accorge che sta per fare a breve distanza di tempo la richiesta per un file che ha già, usa quello che ha già anziché richiedere uno nuovo. Se però mi collego da tre giorni il browser comunque fa scadere gli elementi nella cache, perché magari dall'altra parte sono cambiati. abbiamo testo, abbiamo formattazione, abbiamo immagini, abbiamo link. Il 90% delle pagine web è fatte di queste cose qui. Poi ci sono le cose un po' più complicate, perché qui ci sono queste cose qua che rimbalzellano, ci sono le varie colonne, ma chiaramente sono più complesse delle quattro cose che abbiamo visto adesso. Però il principio è quello. lo sviluppatore di un sito tra virgolette statico, questa pagina qui è una pagina statica, se adesso noi ci mettiamo tutti a chiamare questa pagina qua, così li mandiamo in palla il server, e tutti noi avremo esattamente questa versione, identica bit per bit. E se lo richiamiamo e la rigiamo dieci volte di fila sarà sempre uguale. Finché lui dalla sopra non decide di cambiare qualcosa, va sul server, modifica il file HTML, e allora quando la prossima volta che noi ricarichiamo quella pagina, ovviamente il file sarà cambiato e quindi noi vedremo qualcosa di diverso. Quindi è questa una pagina web statica. Statica non vuol dire immutabile per sempre, vuol dire che per essere cambiata è necessario un intervento umano. Ok? Oh, bloccatemi se ci sono delle cose non chiare, eh. Allora, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che per fare il sito web statico servono poche cose. Servono. Avere un modo per esprimere gli indirizzi web, gli URL. Si, nome del sito, percorso all'interno del sito. Serve il linguaggio HTML, serve uno o più formati di immagine, GIF, JPEG, PNG, è buono. Serve il protocollo HTTP e serve avere sotto internet, cioè il TCP che mi trasporti i pacchetti. Il browser e il server lavorano su questo. Qui fa vedere che una URL in realtà è composta da tre parti. La prima è il protocollo che è sempre HTTP tranne quando è HTTPS che instaura una connessione cifrata. Il nome del server e l'indirizzo della pagina all'interno del server perché un determinato server può contenere più pagine web. E questo famoso HTTP che cos'è? Ma non è semplicissimo, nel senso che una richiesta HTTP la possiamo anche scrivere noi a mano. Perché anche il protocollo HTTP stesso, l'ho usato come parola grossa, il protocollo HTTP, sono quattro o cinque righe di testo. Noi possiamo anche vederlo. Se c'ho installato Firebug. Sì. Quando io faccio una richiesta... Dunque, questa è un'estensione di Firefox che mi permette di fare... Ecco, qui ho richiesto la pagina di Torchiano e qua sotto mi fa vedere l'elenco delle richieste che sono state fatte. Che cosa ha fatto il browser nel frattempo. E vedete che qui la prima cosa che ha fatto è una richiesta GET, cioè dammi questa pagina. Questa richiesta è fatta di una serie di campi che sono indicati qua e poi contiene una risposta. La risposta la conosciamo già, è l'HTML. Quindi due messaggi, uno di richiesta e uno di risposta. E andiamo avanti qui. In realtà la richiesta è qua sotto in cui ho chiesto quella pagina dicendo che la voglio in HTML, dicendo che le mie preferenze della lingua sono queste, dicendo una serie di parametri che il mio browser è questo, eccetera, eccetera. E la risposta è stata sì sì, ti do la pagina e questa è la pagina. Poi in realtà ho chiesto una pagina e in realtà il browser ha scatenato dietro di sé tutta una serie di richieste, tra cui youtube.png che già conosciamo perché ha dovuto richiedere quell'immagine più altri file collegati. Quindi questo appunto molto semplicemente dire faccio una richiesta GET, DTP significa mandare, il mio computer ha mandato al server queste righe qui, tali e quali. Più davanti la riga GET questo indirizzo qua. Quindi tutto sommato è molto semplice, è proprio il fatto che sia molto semplice che gli ha permesso, tutto basato su comandi di testo, fai gli testi facilmente leggibili. E' questo che gli ha permesso di sopravvivere così tanti anni e di crescere così tanto. Perché è semplice, versatile e può essere usato e abusato in moltissimi modi questo protocollo HTTP. Vabbè, qui saltiamo un attimo, c'erano dei ragionamenti sulla velocità, ma direi che sono di secondaria importanza, tranne questa formuletta qua che vi ragiono insieme, dicendo ma allora quando io mi collego un sito che è più veloce o più lento di un altro. Da che cosa dipende? Dipende da due fattori. Dipende dalla latenza e dipende dal cosiddetto throughput del collegamento. Perché tutto sommato c'è un messaggio di richiesta che deve andare e un messaggio di risposta che deve tornare. Il tempo minimo che ci metto è il tempo necessario per fare una richiesta a vuoto. Semplicemente il tempo di viaggio della richiesta e della risposta. Questo è un tempo di latenza. In cui semplicemente i bytes stanno viaggiando avanti e indietro per internet. Dopodiché se la pagina di risposta è una pagina cortissima di 3 byte, finito. Se la pagina di risposta è una pagina lunga di diversi kilobyte, sto pensando alle immagini soprattutto, e beh, la risposta stessa ci mette un certo tempo da arrivare perché la mia banda di collegamento non è infinita. E quindi ho un tempo aggiuntivo che dipende dalla dimensione della pagina, di quanti byte è fatta la risposta, diviso il throughput, cioè la mia velocità di collegamento di rete. Quindi se ho un megabit al secondo, se ne ho 10, o se ne ho 200k bit al secondo, il tempo necessario a navigare una pagina diventa tanto più lungo il tempo, quindi tanto più lento, quanto più è lenta la rete e quanto più è pesante la pagina. Al netto di un tempo minimo di latenza al di sotto il quale non si scende. Questo è un'analisi di come vengono spesi questi tempi. Quello che abbiamo raccontato finora lo riassumo in questo schema, che poi andrò ad arricchire. Quindi che è un modo diverso di disegnare le stesse cose anziché dal punto di vista della sequenza temporale da quello architetturale. Quindi io ho l'utente che interagisce col browser. E io qua volutamente al posto di browser ci ho messo tante icone diverse perché non ci interessa che browser sta usando l'utente. Ciò che fa l'utente interagendo col browser è mandare una URL al server web. Il server web trova i file HTML e la manda di nuovo al browser. Il browser cosa fa? Legge questo file HTML e interpreta attraverso questo che io ho chiamato qua motore di layout, interpreta l'HTML e lo trasforma in visualizzazione, in una pagina visiva. Qualora questa pagina contenga a sua volta delle immagini partono ulteriori richieste allo stesso server o ad altri server che tipicamente magari faranno riferimento alle immagini. Le quali ognuna di queste immagini rifare la stessa trafila è stata richiesta e rimanda indietro e il motore di layout la posiziona nel posto giusto. Quindi il motore di layout comprende l'HTML e comprende il formato delle immagini. Alla fine tutto questo viene visualizzato sullo schermo e l'utente è felice di poterlo leggere. Ok? Il server web fa questo lavoro. Questo lavoro è indipendente dal fatto che stiamo leggendo la pagina di Marco Turchiano con il link alla lezione oppure un'altra pagina che parla di tutt'altro. Il suo lavoro è di gestire il protocollo HTTP, ricevere la richiesta, prendere il file, impacchettarlo e mandarlo nella risposta. Fine. Poi pronto per un'altra risposta. Poi se riesco lo faccio per migliaia di utenti contemporaneamente. e quindi essendo un software standard non devo costruirmelo io per fare il mio sito. Ne prendo uno che esiste già e lo uso. Questa è una statistica aggiornata, l'ultima che ho trovato a dicembre 2011 che fa vedere che di fatto i server web nel mondo sono due o tre come software. Questo qui blu è Apache che è un prodotto open source che gira sia su macchine Unis o Linux che su macchine Windows che ha la dominanza del mercato. Oltre il 60% dei server su internet usa questo software con alti e bassi. E poi il secondo è il server della Microsoft, quindi i siti web che girano su macchine Windows normalmente usano l'Internet Information Server di Microsoft come server, tutte le applicazioni fatte in .NET usano questo server che si mangia grossomodo il 20-30% del mercato, della diffusione, della penetrazione. E poi ce ne sono altri più limitati, ad esempio c'è questo qua verde che è in crescita, questo è Nginx che è un server ad alte prestazioni, che è meno funzionale, quindi ha meno funzionalità diverse di quella di Apache ma quelle che ha sono più veloci, quindi in alcuni contesti viene usato di più. Mentre gli altri tendenzialmente sono in calo. Quindi è una torta che si divide in due o tre fette, non di più. ma si divide in tre fette su 10 miliardi, non 10 miliardi, ma 10 milioni di siti diversi proprio perché quello è un componente standard. Non si scrive dalla sera alla mattina un server web. Sono centinaia di milioni di codici per tutte le funzionalità che ha. però è quello che si riusa. Questo va bene per le pagine statiche. Cosa capita invece se voglio visualizzare una pagina dinamica? C'è una pagina in cui il contenuto si aggiorni, cambi. E vorrà dire che non sarà più pensabile di avere n centinaia di Marche Torchiano che modifica la pagina tutte le volte che qualcuno la richiede. bisognerà avere un meccanismo di generazione automatica delle pagine. E perché mai una pagina che sta a un determinato indirizzo web dovrebbe cambiare? Perché se io carico una pagina la vedo diversa da quella che carica lui? se gli diamo lo stesso indirizzo. Oppure se la ricarico tra cinque minuti la vedo diversa. E' perché io voglio che le pagine siano dipendenti da due fattori. Uno è l'utente che le vede. Cioè dopo che ho fatto il login in un sito ciascuno vede le proprie informazioni e non quelle degli altri, sperabilmente. Quindi l'indirizzo della pagina è sempre la stessa. La posta che ho ricevuto. ma poi quando io mi collego la pagina alla posta che ho ricevuto con il mio login vedo una cosa. Tu vedi una cosa diversa, spero. Quindi dipende da informazioni che l'utente ha fornito. Sulla base di informazioni che l'utente ha fornito nelle pagine precedenti della navigazione il sito genera una pagina diversa. Primo. Secondo, pensiamo alla presione del tempo. il sito fornisce informazioni sulla base di dati immaginatevi un database che cambiano. Quindi ogni volta che io rinfresco la pagina, la ricarico, la aggiorno e andrò a vedere che in questo database le informazioni sono cambiate. Sono cambiate ovviamente perché qualche altro utente nel sito le ha fatto in modo di cambiarle. magari navigando, no? Se voi fate il post della vostra vita su Facebook e vedete quanti mi piace compaiono, no? Quando aumenta il numerino di mi piace è perché qualcun altro che non aveva niente di meglio da fare l'ha letto e ha cliccato su mi piace. E allora l'azione degli utenti modifica i contenuti del database i quali a loro volta influenzano il contenuto delle pagine che altri utenti vedranno. Quindi alla fine una pagina viene generata diversa da un'altra perché A. nel database i dati sono cambiati, sono diversi B. l'utente ha fornito informazioni diverse. Io ho fatto esempio del login per leggere la posta ma la stessa cosa quando fate un motore di ricerca la pagina dei risultati della ricerca tendenzialmente è bene che dipende dalla parola che ho scritto io che volevo cercare pur essendo la pagina la stessa. Allora cosa succede? Che a un certo punto arriva una richiesta questa richiesta di pagina sarà una richiesta parametrica contiene un contesto contiene informazioni sull'utente che l'ha chiesto su che cosa ha chiesto l'utente su come si chiamava e questo parametro viene usato da un algoritmo per modificare l'HTML che generiamo. quindi in qualche modo l'utente fa una richiesta ma questa richiesta non ha solamente un indrizzo una URL ma contiene anche dei dati facciamo il caso semplice voi andate qui sulla pagina del Politecnico e scrivete esame e cliccate su ricerca quando cliccate su cerca viene richiamata una pagina www.politecnico.it slash search e là che buono che è un indirizzo di una pagina a questa pagina vengono passati dei parametri in questo caso due parametri uno è la lingua uguale a italiano e l'altro la query q che si chiama esame che ho scritto io allora una richiesta di questo genere dal server web viene interpretata in un modo completamente diverso una richiesta dinamica una richiesta parametrica un server web essendo un modulo standard che i due terzi del sito del mondo usano quello non può sapere cos'è l'ang cos'è q cos'è esame ma è in grado di riconoscere che quella è una richiesta parametrica allora in quanto tale viene passata al livello successivo il server web dice ok ho ricevuto questo è una domanda parametrica una richiesta parametrica non la so rispondere io che sono un software standard la passo a un'applicazione a un software specifico custom personalizzato che sarà in grado di capire la domanda e di fornire la risposta capire che q è la stringa che ho cercato sapere dove è l'indice del motore di ricerca interno nel sito del Politecnico e comporre il risultato della pagina di risposta quindi questa applicazione questa è l'applicazione web vera e propria finora abbiamo solo messo insieme dei pezzi standard configurati bene per carità ma pezzi standard ma qui quando programmiamo un sito stiamo scrivendo un programmino un software che riceve dei parametri fa delle ricerche fa dei calcoli fa delle query e poi come ultima analisi questa applicazione deve sputare fuori stampare un file html creare un file html che sarà personalizzato in funzione della richiesta che è stata mandata qui ad esempio contiene delle cose che sono esame questo file html questa pagina qui se la chiedo al browser è un file html questo file html però non è mai stato scritto da mani umane ma è stato creato due minuti fa da un software il software che sta dietro la pagina search quindi dietro ad un indirizzo web ci sta un programmino che ha la capacità di fa la ricerca quindi fa quel che deve fare e poi il risultato me lo fornisce sotto forma di paginone html che lui creerà c'era un ciclo in cui stampa le varie cose dov'è che sono i campi? vai, non li vedo questo sito del poli non è per nulla facilmente leggibile il codice e mi dà tutti questi contenuti con la sua paginazione eccetera eccetera quindi programmare siti web significa trovare il linguaggio i metodi per scrivere questo tipo di applicazioni voi nella vostra preistoria avete imparato a scrivere il programmino in C il C non è un linguaggio che si usa qua nella programmazione siti web mai praticamente che io sappia perché non è adatto essenzialmente perché qui essenzialmente si tratta di prendere dei parametri che sono delle stringhe generare dei documenti di testo combinando stringhe se vi ricordate qualcosa del C vi ricordate che tutte le volte che si era manipolato delle stringhe faceva male no? mal di denti e quindi sono stati costruiti anche inventati dei linguaggi nel corso degli anni più adatti alla programmazione web alcuni linguaggi più semplici e quindi poi si sono diffusi moltissimo come il PHP altri linguaggi in realtà più complessi più potenti come ad esempio il linguaggio Java che è nato per sbargati scopi ma poi ne è stata fatta cioè sono nate delle librerie degli ambienti specifici per la programmazione web con un linguaggio più potente più complesso che è più usato in ambito enterprise e meno usato in ambito consumer tanto per intenderci ma il principio è sempre lo stesso il server web riconosce che è una richiesta dinamica non sa che cosa farci delega e quindi cosa stiamo aggiungendo? stiamo aggiungendo la possibilità di passare dei parametri nelle richieste web e dove è andata qua? ah no ce l'avevo già prima la figurina ce l'avevo già prima quindi torniamo a questa figura precedente dove non avevamo guardato il blocco in basso a destra che ci diceva guarda che il server web è in grado di leggere un file html e fornirlo quando questa sia una richiesta statica se invece è una richiesta dinamica questo file html non esiste ma viene generato al volo sul momento da un'applicazione scritta nel caso di server microsoft in linguaggio asp.net in caso di molti altri server in linguaggio php in caso spesso di applicazioni diciamo con enterprise in linguaggio java con le pagine jsp eccetera eccetera ma qui chiaramente abbiamo bisogno di un corso e non di un'ora per andare a entrare nel merito di qualcuno di questi linguaggi di programmazione e genera questa pagina a sua volta come fa questa applicazione a generare quella pagina come fa a saperlo a sapere quali sono le risposte alla query esame a sapere quali sono le previsioni del tempo per questa sera quello è un programmino un software che qualcuno ha scritto il software si genera un html sulla base di una richiesta di un input e di informazioni che possiede o a cui può fare accesso informazioni che tendenzialmente stanno in un database in un dbms quindi nella nostra architettura aggiungiamo un altro elemento in più che è una luogo in cui memorizzare le informazioni che servono l'application server informazioni che l'application server che l'application in realtà che le applicazioni che girano all'interno dell'application server possono leggere o scrivere o modificare no? quindi quando qualcuno schiaccia su mi piace ci sarà una query che va ad aggiornare il conteggio del numero di mi piace su quello specifico post e quando visualizzo la pagina ci sarà l'applicazione che va a leggere nel database qual è quel numero di mi piace che c'è scritto nel database stesso quindi il database di fatto è un parcheggio a lungo termine delle informazioni che le applicazioni possono in buona parte leggere ma in alcuni casi anche modificare scrivere aggiornare quindi l'applicazione e come fai da un'applicazione a leggere o modificare i dati che sono contenuti in una base dati? e lo fai con il linguaggio di query della base dati voi avete fatto tutti i basi dati vero? no? no? qualcuno? sì? o siete metà metà circa una base dati no? vabbè come dice il nome contiene delle tabelle dei dati che sono accessibili attraverso un linguaggio di interrogazione standard che è un linguaggio che si chiama SQL Structured Query Language l'applicazione crea ricevendo la richiesta qui si allunga la catena vedete il client ha scritto un indirizzo cliccato su un link ha scritto esame dentro la casellina arriva la richiesta al server web del Poli gli dice guarda che io voglio fare slash search allora search non lo so fare io perché è una pagina dinamica lo passo all'applicazione che si chiama search l'applicazione che si chiama search vede che Q uguale esame e va bene l'utente vuole sapere le cose relative ad esame ma io non le so perché io sono un pezzo di software scritto da una persona ma in un database da qualche parte ci sarà una tabella che contiene le parole chiave che compagno nelle pagine del sito e allora compongo una query un'interrogazione in questo database che sarà qualcosa del tipo select asterisco from pagine where testo uguale esame tanto voi la sequela non lo sapete quindi posso inventare a caso no è una cosa simile a questa ma poi bisogna capire bene come è fatta la struttura delle tabelle e lo manda al database il database è un server di tipo completamente diverso che gestisce tabelle, informazioni e interrogazioni anche complesse tra queste tabelle lo scopo del database è quello di interpretare le query le interrogazioni e fornire i dati in uscita o nel caso in cui un'interrogazione voglia modificare i dati semplicemente modificare i dati all'interno del database e fornire conferma sulla base di questi dati questi dati cosa saranno? beh il nostro esempio sono l'elenco di queste pagine che erano memorizzate nel database insieme a altre migliaia di pagine e beh in questo caso solamente quelle che corrispondono all'interrogazione che ho composto verranno fornite all'applicazione che con la sua intelligenza prende questi dati e li mette in bella li compone in html quelli sono dati grezzi che arrivano e li prendo e devo disegnare la pagina disegnare la pagina significa creare un html opportunamente con i tag per mettere le cose a capo grassetto a capo il link eccetera eccetera intorno ai dati che ho ricevuto poi qui ci sono dei problemi architetturali pesantissimi perché questa architettura che è standard tutti i siti web funzionano così è nata per caso nel senso che la tecnologia dei siti web http server web linguaggi nuovi per lo sviluppo di applicazioni web e la tecnologia delle basi di dati che in realtà è precedente proprio come concezione come sviluppo di almeno dieci anni viaggiavano tranquilli su binari diversi e infatti le prime applicazioni web non usavano per nulla un database relazionale un vero dbms ma ogni applicazione ogni programmatore si inventava un po' il modo di memorizzarsi dei dati tipicamente in dei file di testo con dei formati inventati un po' come facevamo al primo anno quando l'esercizio da lettare si lega un file di testo in cui i campi ce n'è uno per riga separati da spazio cosa di questo genere alla buona però chiaramente facendo la cosa alla buona non riesci poi ad arrivare a livelli di complicità molto elevati e allora i programmatori web a un certo punto si sono accorti che esisteva tutto un mondo diverso che era il mondo delle basi dati che era nato e cresciuto nell'ambiente gestionale invece per gestire archivi hanno detto guarda ci sono delle basi dati poi casualmente alcuni software di basi dati hanno cominciato a essere disponibili in forma gratuita e allora come sempre un ingegnere che trova la via più breve per arrivare al risultato dice bene smetto di farmi venire mal di testa per inventarmi ogni volta un modo diverso per memorizzare i dati uso quella tecnologia che è già bella che pronta da quel giorno non si è più tornato indietro con una serie di problemi vi accennavo architettuali enorme basti pensare al fatto che un database per come è stato pensato e concepito è un oggetto che ottimizza l'esecuzione delle interrogazioni sul lungo termine cioè un oggetto che è pensato per collegarsi al mattino lavorare tutto il giorno e fare interrogazioni anche complesse e scollegarsi la sera come viene usato un database da un sito web invece è esatto contrario apre una connessione ogni volta che mi arriva una richiesta HTTP perché in quel momento l'applicazione scopre di avere una domanda da fare apre una connessione fa una query che nella maggior parte dei casi è banale semplicissima e poi chiude subito la connessione quindi è un modello di utilizzo completamente diverso e questo ha creato molti problemi di prestazione poi perché sono due modi di programmare completamente diversi ma vabbè questo qua è stato il divertimento la croce dei programmatori degli ambienti di sviluppo negli anni per dire che sono tutto questo non è stato progettato così fin dall'inizio ci sono varie componenti che sono nate e poi si sono affiancate e si sono unite per costruire poi un'architettura che oggi è diventata standard standard nel senso che dei database ce ne sono di dieci tipi diversi no? quelli commerciali quelli dell'oracle dell'ibm della microsoft poi ci sono quelli gratuiti c'è mysql c'è postgres software diversi ma svolgono tutti la stessa funzione dal punto di vista architetturale sono la stessa cosa poi hanno prezzi diversi requisiti di sistemi diversi prestazioni diverse feature capacità diverse funzionalità diverse ma alla fine fanno la stessa cosa riempiono lo stesso vuoto e anche questi sono oggetti diciamo standard in cui devo semplicemente progettare come i dati devono essere memorizzati e quindi poi come scriverlo in interrogazione per restare questi dati ecco qui c'è un esempio di una piccola paginetta un estratto di una paginetta scritta in linguaggio PHP che fa vedere un po' cosa succede con un'interrogazione simile alla nostra cerca esame voi non siete più abituati a vedere i linguaggi di programmazione ma non spaventatevi qui c'è una pagina dove siamo? siamo qua dentro dentro questa applicazione siamo appena stati svegliati dall'application server dal web server che mi ha detto senti è arrivata una richiesta per una pagina dinamica perché io non so cosa farci e l'utente mi ha dato una query che si chiama esame e allora io cosa faccio? creo come prima cosa mi sveglio vado a vedere questo dollar request parentesi query significa fammi fatti dare dal web server il parametro della richiesta che si chiama query che si chiama query quello che nel nostro esempio del sito web del poli si chiamava q dollaro request tra virgolette parentesi tra virgolette q mi restituirebbe esame ciò che abbiamo scritto allora con quella parolina compongo una query select id del documento da una serie di tabelle dove c'è una condizione di joint tra parole chiavi e documenti e dove la parola chiave è esame questo che c'è qua tra virgolette da qui a qui è il linguaggio SQL linguaggio di interrogazione delle basi dati creo un'interrogazione che contiene al suo interno una parte variabile una componente variabile che è ciò che aveva scritto l'utente nella pagina precedente che all'application server è un'informazione che è stata passata dal web server e al web server è un'informazione che è stata passata dal bravo del browser dopodichè anche l'application server non sa che cosa farsene la mette dentro la query SQL dicendo il database finalmente tu che hai i dati sai che cosa farsene di questa informazione ma ti dico come dopodichè l'application server manda la query al database qui sto saltando una serie di passaggi quindi prende questa dollaro query la variabile di tipo stringa in cui ho memorizzato questa interrogazione la prendo la mando al database in questo caso sto ipotizzando di avere MySQL che è un database da tutto uno di quelli più utilizzati e questa query è scritta un'istruzione sola in realtà è una cosa complicata in cui questa stringa viene presa dall'application server mandata al database server che magari sta su un'altra macchina il database server prende la legge la capisce la interpreta la ottimizza la esegue tira fuori i dati quindi frulla un bel po' tira fuori i dati e restituisce i dati sottofondo di una tabella dei risultati questa tabella dei risultati viene resa disponibile di nuovo nell'application server in questa variabile che qui è stata chiamata rawset un insieme di righe insieme di righe una riga per ogni risultato dell'interrogazione e queste righe le prendo una per una e riga dopo riga vado a prendere i campi che mi interessano e qua dentro dove c'è scritto elaborare i dati significa prendi quei dati che mi sono ritornati dal database e metti in HTML genero l'HTML corrispondente questo è un po' il ciclo di funzionamento ridotto all'osso anche meno dell'osso di tutte le pagine web ho dei dati acquisisco i dati sulla base dei dati che ho ricevuto faccio dei controlli delle verifiche che qui non ci sono che i dati siano corretti che ci sono tutti che non ci siano errori eccetera eccetera quando ho fatto queste verifiche compongo una o più interrogazioni chiedendo al database informazioni a proposito di questi dati il database mi risponde con altri dati e sulla base delle risposte del database compongo la pagina di risposta che conterrà al suo interno dei link o dei moduli dei campi di testo i quali quando usati dall'utente a loro volta scateneranno delle nuove richieste verso la stessa oppure altre pagine web che riprenderanno la trafila da capo è un mondo a singhiozzo nel senso che ogni volta che un utente fa un click scatena un putiferio a livello di web server application server database tutti lavorano appena poi questo lavoro è finito viene rimandata la risposta html al browser e il server da quel momento in avanti si disinteressa completamente di ciò che succede il server magari lavora 200.000 secondi per voi poi magari ci mettete 30 secondi per leggere la pagina 30 secondi lui ormai non vi conosce più il momento stesso in cui vi ha dato la risposta non si ricorda più di voi non è più interessato a voi sicuramente avrà altre centinaia di utenti in parallelo in cui dovrà fare la stessa cosa lo stesso lavoro quindi questo aggiunge un pezzettino alla nostra figura che l'applicazione web si può avvalere di dati memorizzati in una base dati e gestiti attraverso un software che è DBMS sta per database management system sistema di gestione delle basi dati quindi questo è il software standard gratuito a pagamento e questi sotto invece sono i dati che abbiamo progettato noi che ci abbiamo messo dentro l'interazione con i dati avviene attraverso il linguaggio SQL che ha le istruzioni per interrogare o per modificare per aggiungere cancellare inserire dati istruzioni SQL che sono create dall'applicazione web dall'applicazione scritta nel nostro linguaggio di programmazione che interdisce col database uno o più volte e poi alla fine riuscirà a creare il file HTML perché il ciclo si chiude sempre creando un file HTML solo che dietro le quinte avvengono cose via via sempre più complesse questo era il web prima del 2000 ok? facciamo l'intervallo e ci digeriamo i dieci anni successivi